Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, oggi è una lezione un po' particolare perché dunque, vediamo se vi trovo il nome Alessandro mi ha chiesto in uno dei video precedenti la seguente cosa modi della tonalità maggiore e gli accordi che ne derivano e soprattutto a cosa servono e come utilizzare le sette scale allora Alessandro, qui bisogna che mi prenda due lezioni di spazio perché non ce l'ho fatta a spiegare come volevo tutti questi argomenti nel mio libro di armonia applicata, quindi figuriamoci se ci riesco in un video solo allora, ecco, innanzitutto a me, come sapete, non piace farmi pubblicità anche se in realtà dovrei però ecco, in questo caso faccio un'eccezione e invito te, invito tutti a dare almeno uno sguardo a questo manualone che ho fatto, diciamo, a inizio anno si chiama appunto corso completo di armonia applicata per bassisti vi lascio il nick dove io ho cercato, proprio per risolvere dubbi che hanno tantissimi musicisti ho cercato di affrontare tutti gli argomenti tutti, magari no però quelli che più ci servono in molti generi musicali ho cercato di trattarli sia da un punto di vista, un punto teorico quindi capire tutti gli argomenti ma anche pratico ovvero come utilizzare tutto quello che avevo spiegato precedentemente quindi il primo consiglio è dare uno sguardo a questo manuale dove ci sono anche video allegati dove ci sono basi, esempi, eccetera, eccetera se l'altro fine anno sto abbassando i prezzi e quindi si trova veramente a poco allora, io devo partire per spiegarti a te e a tutti quelli che mi seguono con la massima semplicità possibile questo argomento devo partire da diciamo la parte teorica e quindi devo girare lo schermo e farti vedere come si armonizza una scala quali sono gli accordi che si costruiscono sui vari gradi e poi nella lezione successiva si va a mettere in pratica il tutto quindi giro lo schermo allora, eccoci qui ho fatto intanto un piccolo schermettino, diciamo allora, qui ho scritto la scala cromatica ovvero quali sono le 12 note in musica da quando c'è ovviamente il sistema temperato quindi da quando è stato deciso che il do diesis è uguale diciamo così a rebemolle, eccetera, eccetera allora, quindi con i diesis abbiamo queste 12 note do diesis, re, re, diesis, mi, fa diesis cromatica nel senso che da questa nota a questa nota c'è un semitono quindi riportato sul basso è un tasto semplicemente e qui abbiamo i bemolle allora, la formula per costruire la scala maggiore in tutte le tonalità è questa tono, tono, semitono tono, 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 semitono sarebbe a dire che se io parto dal do andiamo qui oddio, che ho aperto do prendo questa formula faccio tono quindi questo si è detto un semitono quindi passo quella dopo re e mi segno re tono dal re cioè re diesis è un semitono quindi il tono trovo sul mi mi segno mi semitono dal mi al fa è un semitono quindi ok fa porto ono salto, fa diesis prendo il sol eccetera eccetera e ho la mia scala maggiore di do la riporto sul pentagramma e come vedete non ci sono altre azioni quindi do re mi fa so la si do ok da questa scala prendendo la prima la terza e la quinta nota costruisco la mia triade quindi prendo il do il mi e il sol torno di qua abbiamo detto do mi oh che mi va a bianmarusco e sol questo si chiama triade perché è composta da tre note maggiore perché dal do al mi ci sono quattro semitoni e come abbiamo già specificato nelle lezioni su intervalli eccetera quattro semitoni equivalgono a una terza maggiore quindi la quinta essendo giusta quindi non essendo alterata è punto giusta quindi la triade è maggiore quindi io sul primo grado della scala di do maggiore ho una triade maggiore se prendo anche la settima quindi torno alla mia scala prendo la settima che è un si naturale avrò queste note c do mi sol si e questa è una quadriade quadriade perché ci sono quattro note e l'accordo si chiama do measure seven ovvero triade maggiore più settima maggiore abbiamo già visto nelle lezioni su intervalli questa è una settima maggiore allora quindi abbiamo costruito la triade la quadriade sulla scala di do maggiore allora prendendo ora la scala di do e partendo da tutte le altre note utilizzando le stesse note della scala di do vediamo cosa succede parto da de mi fa so la si do e de e un poi parto da mi fa so la si do ne mi a due parto da fa partito dal sol non che mezzo cieco perdonatemi poi abbiamo quella di sol quella di là e infine quella di si abbiamo costruito in questo modo le sette scale derivate dalla scala maggiore di do questa si chiama scala dorica di re scala frigia di mi scala liquida di fa eccetera eccetera questo però ci serve fino a un certo punto ovvero io intanto posso prendere la seconda scala quindi il secondo grado il re e rifare lo stesso procedimento di prima quindi prendere la prima la terza e la quinta nota quindi sono re fa e la torno di qua re fa la questa è una triade minore perché da re a fa ci sono tre semitoni quindi una terza minore quindi la triade è minore la quinta è giusta se aggiungo la settima io vado a vedere la mia scalettina la settima è un do mi viene fuori queste note la do quadri re l'accordo costruito è un re minore settima perché abbiamo visto che la settima quando dista un tono dall'ottava diciamo quindi il do dista un tono da re è una settima minore quindi ovvero una triade minore più la settima minore se io faccio questo ragionamento anche sulla scala partendo da mi fa sol la versi armonizzo la scala di do maggiore l'armonizzo a triadi e a quadriadi quindi capisco quale accordo ho sui vari gradi della scala facciamo ora però un ragionamento diverso allora innanzitutto se io prendo queste scale e le suono su un accordo di do perché tanto le note sono sempre le solite non sentirò mai il colore di ogni scala quindi in realtà ci sono due modi per fare questa cosa cancelliamo un attimo tutto e scriviamo ora invece la scala di sol maggiore quindi metto un diesis come avete visto col circolo delle quinte si aggiunge un diesis sol la si do re mi fa diesis e sol allora io posso fare lo stesso identico ragionamento di prima quindi col solito diesis in chiave suonare le stesse note partendo da un grado diverso quindi vedrebbe la do re mi fa diesis sol e là eccetera eccetera e prendere prima terza quinta e segnarmi la triade poi con la settima e verrà fuori che sui sui sette gradi della scala per ogni scala maggiore avrò una triade maggiore sul primo grado una triade minore sul secondo una triade minore sul terzo una triade maggiore sul quarto e così via sempre su tutte le scale e le quadriadi avrò un accordo major seven sul primo grado un accordo minore settima sul secondo un accordo minore settima sul terzo un accordo maggiore settima sul quarto un accordo di settima poi vedremo sul quinto un accordo minore settima sul sesto e un accordo semidiminuito sul settimo vedremo anche questo poi con calma per sentire le scale modali per sentire il colore di ogni scala modale non basta fare questo giochino qui ma bisogna fare un'altra cosina simpatica allora prendiamo ad esempio parliamo di scala d'orica abbiamo visto che si costruisce sul secondo grado quindi io il re d'orico abbiamo detto che è composto con le stesse alterazioni nella scala di appartenenza quindi quella di do quindi non ho alterazioni in questo caso mi segna un attimo accanto qual è la formula per questa scala quindi vedete ho tono semidono tono 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 perché dal re al mi c'è un tono poi semitono perché dal mi a fa c'è un semitono tono perché dal fa al sol c'è un tono tono perché dal sol al la c'è un tono qui che ho scritto sono scondato un tono poi dal si al do c'è un semitono dal do al re c'è un tono quindi questa è la formula per scriversi per tirare giù tutte le scale doriche quindi se io voglio prendermi ad esempio la scala dorica costruita su la scala maggiore di sol cioè derivata dalla scala maggiore di sol che abbiamo detto e note sono queste seguendo questa formula parto dall'a sul secondo grado e poi ho tono quindi si semitono do tono re tono mi tono fa diesis semitono sol tono e ho scala dorica di la e non più di re una volta fatto questo questo ragionamento per tutte cioè su tutte le tonalità che vogliamo quindi posso proseguire poi per quinte oppure insomma come preferite a questo punto avrò capito quale accordi ho sulla scala maggiore e soprattutto le scale modali non le vedrò più come diciamo non sarò più costretto a vederle come una diciamo derivante dalla scala maggiore è sempre una scala che deriva da una scala maggiore è vero però le posso vedere come una cosa a sé stante e soprattutto questa scala dorica di là per sentirne il colore io non posso suonarla su un accordo ad esempio di sol maggiore perché deriva dalla scala di sol perché in quel modo semplicemente suono le stesse note partendo da una nota diversa ma il risultato come dicevano i matematici cambiando l'ordine degli addendi come era il risultato se invece io prendo costruiamo un attimo la scala di minore naturale abbiamo detto cavolo ho scritto eh mi è partito ecco io se prendo invece la scala minore naturale di la metto un accordo la minore o la minore settima per esempio e ci suono prima questa scala e sento che colore ha che che sensazioni mi dà eccetera eccetera e provo piano piano a improvvisare qualche frase eccetera dopodiché sullo stesso accordo sulla stessa base sullo stesso tappeto ci suono questa scala e avrò questa nota differenza quindi che è una sesta invece che minore maggiore ma la sonorità sarà completamente diversa sarà pur sempre minore il senso della scala perché abbiamo una terza minore ma questa sesta maggiore cambierà totalmente il colore della scala e di conseguenza anche il colore della nostra improvvisazione eccetera eccetera quindi secondo me questo è il ragionamento da fare per capire per comprendere come suona una determinata scala altrimenti se ripeto se prendiamo una scala di don maggiore e poi ci suoniamo red orico mi infrigio fa l'idio diciamo che cambia l'ordine delle note ma il colore cambia poco se invece io ragiono in questo modo ho due scale completamente diverse sullo stesso accordo ed è qui che sento come suona la scala d'orica eccetera allora per ora mi fermo qui perché non entro nel discorso musica modale qui si sta parlando di scale modali la musica modale la composizione modale è un mondo ancora più complesso un mondo ancora più ci vuole molto 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 tempo per spiegarlo insomma ora non mi sento in grado diciamo ci ho provato con un libro ripeto ma con delle semplici lezioni è difficilissimo allora per ogni dubbio se ho spiegato male qualcosa basta scrivermelo vi aspetto questa domenica alle 20.45 per la diretta dove magari si può parlare anche di questi argomenti e nella prossima lezione andremo a mettere in pratica quanto detto ci vediamo al prossimo video